Melody in every single word I speak Giornata numero 30 in Serie B alle ore 15 al Renato Curi in campo Perugia contro Ternana Vediamo quali potrebbero essere le scelte di Pierpaolo Bisoli In porta Rosati, difesa 4 con Del Prete, Belmonte, Volter Rossi A centrocampo Della Rocca, Porcic e Rizzo davanti di Aguirre e Molina Saranno alle spalle di Matteo Ardemagni Grazie a tutti